Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico per il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 ho segnalato un veicolo in panne tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori tra San Vincenzo Sud e Donoratico in direzione Donoratico. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato a causa di una frana tra Popiglio e la Lima, per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori della tramvia, modifiche in zona San Donato a Novoli fino a tutta la giornata di oggi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!